Con Stefano Qualdoro noi avremo l'occasione di cambiare veramente la storia della campagna e con persone come la nostra da Presidente Evalongo sicuramente la provincia di Salerno sia come ente che come territorio avrà persone veramente che possono dare quella svolta di difesa degli interessi legittimi ma anche di affermazione dell'identità e dell'autonomia della nostra provincia nel contesto della campagna per mettere in condizione veramente il territorio di iniziare un percorso di cambiamento, di sviluppo economico che è assolutamente necessario. Donne del PDL che vincono, Evalongo e Anna Ferrazzano qui vicino. Sì, devo dire che per me è un onore poter lavorare in questi sei mesi con persone di qualità innanzitutto per la professionalità, per la tenacia, per il coraggio e per la determinazione che hanno mostrato nel loro incarico e credo anche che il loro esempio sia un esempio importante per le altre donne e non è vero che le donne in politica hanno meno capacità e meno determinazione degli uomini e non è vero che non hanno gli spazi necessari. Loro hanno dimostrato che quando le donne ci credono e vogliono veramente dare un contributo alla comunità e al territorio sono in grado di fare a volte anche meglio degli uomini e sicuramente hanno uno spirito pratico, una concretezza che spesso manca agli uomini. Devo dire che tra i collaboratori i miei più importanti, e peraltro anche il ruolo lo dimostra uno vicepresidente, l'altro presidente del Consiglio Comunale, ho trovato proprio Evalongo, Anna Ferrazzano. Per questo mi fa molto piacere questa volontà di accettare questa nuova sfida alla regione da parte di Evalongo, che peraltro ha fatto per dieci anni il sindaco benissimo in un comune importante intorno a Salerno, dei Picentini, che è Pellezzano, ma anche in questi sei mesi con una grande vittoria strepitosa nella Valle dell'Irno come consigliere provinciale, una situazione difficile dove la sinistra aveva creato i suoi fortini, le sue roccaforti, spesso anche costruite su pratiche clientelari. avere una persona di qualità, di coraggio, di onestà, di rettitudine credo che sia importante per la regione Campania e importante per la provincia di Salerno.